Ultimo giorno in Sudafrica per il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan. La coppia reale ha visitato un polo di imprenditori nel centro di Johannesburg. Meghan si è ricongiunta con il marito Harry in Sudafrica dopo il viaggio del duca in Namibia. La coppia è ricomparsa sorridente dopo la dura dichiarazione del principe che accusa i tabloid inglesi di aver bullizzato la moglie. Ma al loro rientro in Gran Betragna dovranno affrontare la vicenda. Harry infatti ha puntato il dito contro i tabloid che attaccano la moglie e ha annunciato di aver intrapeso azioni legali. L'ultima vicenda è la pubblicazione sul Mail on Sunday di una lettera privata che Meghan avrebbe scritto al padre. Mia moglie è diventata una delle ultime vittime di una stampa scandalistica britannica che conduce campagne contro individui senza pensare alle conseguenze, ha scritto in una lunga nota. Una campagna spietata che si è intensificata nell'ultimo anno durante la sua gravidanza e mentre cresceva nostro figlio appena nato. La paura di Harry è che la storia si ripeta.